Considero tra i miei maestri italiani quattro maestri, io considero, questi quattro sono Francesco Severi, Beniamino Segre, Giuseppe Gerardelli e Paolo Salmon. Allora, naturalmente non posso dire qui tutti i risultati di questi autori che io ho migliorato, perché allora dovrei stare qui non 15 minuti ma 150 minuti. Farò una brevissima accenno ad alcune delle ricerche di questi quattro, dell'attività di questi quattro che io in qualche modo ho migliorato. Francesco Severi, per Francesco Severi io ho migliorato alcuni risultati di geometria algebrica. Uno di questi è aver precisato la nozione di intersezione, che è una nozione chiave nella geometria algebrica. Proprio approfondendo questa nozione di intersezione, praticamente si viene a conoscenza di risultati di geometria algebrica. Ora, il punto di partenza è un dibattito tra Oscar Perron e Francesco Severi che si è protratto per molti anni perché in parte si è svolto durante la Seconda Guerra Mondiale. e allora ovviamente i rapporti non erano, diciamo così, molto rapidi. E il punto qual era? Era questo. Perron aveva dato degli esempi geometrici molto interessanti, ma uno di questi era quello che adesso io spiego. Prendiamo una sfera unitaria nello spazio tridimensionale in P3 proiettivo, in P3 lo spazio proiettivo tridimensionale, consideriamo una sfera di raggio unitario, quella che in grosso modo si può esprimere, cioè quella che si può esprimere con un'espressione x al cubo, cioè x al quadrato più y al quadrato più z al quadrato, uguale 1. Questa è una sfera unitaria che ha centro nell'origine il raggio 1. E l'equazione è x quadro più y al quadrato più z al quadrato meno 1 uguale 0, oppure uguale 1. Allora, consideriamo poi il cilindro che proietta dal punto all'efinito dell'asse z la sfera unitaria che noi stiamo trattando. Se poi noi prendiamo il sistema cilindro e sfera, noi che cosa abbiamo? Abbiamo una costruzione geometrica. Però, dal punto di vista algebrico, dal punto di vista insiemistico, l'intersezione del cilindro e della sfera è una circonferenza. Comunque noi abbiamo la parola intersezione. La parola intersezione è una parola chiave nella geometria algebrica. Però al tempo della polemia che ci fu tra Severi e Perron, la parola intersezione non era ben interpretata. Va bene? E chi ha interpretato bene è stato Mare Ferentini. Ha studiato questo problema insieme all'ASCU, però la denominazione è stata data da Mare Ferentini essenzialmente scritta. e allora noi abbiamo la parola intersezione, che è una parola chiave in geometria algebrica. Però al tempo di Severi e Perron, siamo alla Seconda Guerra Mondiale, tanti anni fa, non era molto conosciuta questo fatto geomatematico importante. Perché loro consideravano solo l'intersezione insiemistica? Mancavano loro due tipi di intersezione. L'intersezione schematica è l'intersezione algebrica. L'intersezione schematica è stata messa a fuoco da Mare Ferentini, è stata data da Mare Ferentini, e anche avvalendosi in parte di alcune vedute di Francesco Severi. Però Francesco Severi non poteva chiarire bene questo problema. Perché? Perché gli mancava il linguaggio degli schemi di Grotendich. Severi non ha studiato Alessandro Grotendich. E Alessandro Grotendich ha studiato gli schemi. E allora l'intersezione schematica lui non la conosceva. presentiva, è stato un precursore, perché Severi era un matematico mondiale di valore, ha intuizioni, le sue intuizioni sono state al centro delle ricerche di 50 anni, di 60 anni di ricerche. E allora oggi noi possiamo considerare la parola intersezione in triplice vesta. Intersezione insiemistica, Perron. Intersezione schematica, Grotendich-Fiorentini. Intersezione algebrica, Macaulai. E allora questo è un contributo notevole che io credo di aver dato all'opera di Severi.